buona sera e benvenuti a tutti qui al circolo sportivo atletico 2000 per la diciottesima giornata serie a due lega calcio a otto le squadre che si sfideranno quest'oggi sono roma calcio 8 ed edufis città di ciampino dalla bandierina direttamente un cross dentro direttamente in porta e c'è il gol del 1 a 0 della roma calcio 8 gran tiro dalla bandierina e passa in vantaggio alla squadra di casa c'è mi cala lascia per quello il destro che si stampa sul palo attenzione poi sulla ribattuta la grande parata di tommasino sul secondo palo palla tagliata dentro sul primo il destro che si stampa sulla traversa finisce alto trova angeletti il lancio lungo cercare della rovere il sinistro al volo si gira un gol spettacolare di della rovere 1 a 1 edufis città di ciampino torquati per nobili il destro di topa il gol del capitano roma calcio 8 2 1 grandissimo il destro da fuori di topa mancino in porta e il gol fantastico dell'edufis che arriva sulla tre quarti con un mancino praticamente imprendibile grande il sinistro del numero 8 calcio di punizione per la roma calcio 8 attenzione il destro palla che si stappa sul palo il grandestro da fuori poi il passaggio sotto porta non riesce al volo il destro che si stampa sul palo esterno il numero 11 rocato approvato per torquati dentro e sotto porta colpisce il palo e poi urracci e su quest'azione finisce la partita 3 a 2 edufis città di ciampino batte roma calcio 8 e sale al quinto posto in classifica